Ciao a tutti io sono Mirko e oggi facciamo un veloce tutorial su come impostare le switch nella nostra Taranis In questo video userò una QX7 ma il procedimento è simile per la X9D o per la Orus Iniziamo, clicchiamo il tasto menu e andiamo nella pagina 6 che è quella relativa al mixer Come vedete quando creiamo un nuovo modello vengono impostati di default solo i 4 canali relativi agli stick mentre quelli relativi agli switch andranno impostati manualmente Per impostare le switch dobbiamo scendere fino al primo canale disponibile che è il canale numero 5 cliccare ENTER e andare in SOURCE Una volta che siamo in SOURCE clicchiamo di nuovo ENTER e muoviamo la switch che vogliamo assegnare Come vedete ho mosso la switch A e qui è comparso la switch A Quindi EXIT, EXIT e ancora EXIT Come vedete nel canale numero 5 adesso abbiamo impostato la switch A E così via per le altre SOURCE Muoviamo EXIT, EXIT, EXIT E andiamo avanti SOURCE Muoviamo la switch EXIT, EXIT, EXIT 8 SOURCE SWITCH EXIT, EXIT, EXIT Se vogliamo muovere, editare o cancellare un canale che abbiamo creato basterà farlo tenendo premuto il tasto ENTER E comparirà questo menu qui Ad esempio cancelliamo Andiamo su DELETE e premiamo di nuovo ENTER Ecco fatto Se lo vogliamo ricreare il procedimento è sempre lo stesso Andiamo su SOURCE Clicchiamo E muoviamo il canale che vogliamo assegnare Il procedimento è il medesimo anche per i potenziometri qua sopra o per le switch di sotto Adesso colleghiamo un FLIGHT CONTROLLER a BETAFLIGHT per vedere se la configurazione che abbiamo fatto nella TARANIS è a posto Una volta che il nostro ricevitore è configurato con i parametri giusti Possiamo andare nel tab del radiocomando e provare le switch Proviamo la switch A Bene La switch B Ok La switch C Bene La switch D Perfetto, le switch che abbiamo creato rispondono correttamente Questo era il mio tutorial su come impostare le switch nella TARANIS Grazie per aver visto il video Non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace Grazie a voi Grazie a tutti